Bene, torniamo al momento più atteso e più temuto, cioè il momento della cruda verità. Adesso saprete che cosa succede, cosa è successo e cosa succede. Prego, Centro Studi Utrend vi dice tutto. Buongiorno a tutti, l'anno scorso avevo detto rimbocchiamoci le maniche, bisogna continuare a farlo ovviamente. Volete quelle buone o quelle cattive? No dai, cominciamo con le buone notizie, anche perché ieri sera quando sono arrivato mi ho detto ci dici delle cose belle domani, vero? Allora, non lo so, cominciamo a vedere un po' i numeri, cominciamo a vedere un po' i dati e capiamo anche da questi dati in effetti cosa possiamo aspettarci. L'inflazione è sotto controllo, l'anno scorso non eravamo ovviamente in questa condizione, quello che è avvenuto nell'ultimo anno ha sicuramente garantito un riadeguamento del mercato anche dal punto di vista dei prezzi, dei materiali, dei prodotti e questo fa il paio con degli altri indicatori che noi peraltro insomma da quando abbiamo avviato l'index che ogni mese pubblichiamo sul numero di Utrade monitoriamo questi elementi che sono importanti e questo in questo caso riguarda la fiducia delle imprese e se le mettiamo a confronto qua vedete che il dato della fiducia in calo delle imprese a livello europeo anche dell'area euro è molto simile a quello che era un po' l'andamento che ci raccontava il nostro amico di Agebau in apertura. Invece la fiducia delle imprese italiane al di là degli andamenti diciamo altalenanti mese per mese però in realtà è comunque più elevata, è comunque alta, è comunque sopra lo zero quindi se io prendo questa platea e vi chiedo come sta andando è come se un po' più della metà di voi dicessi sta andando bene e l'altra dice se sta andando male. Il punto centrale, il punto nodale, il tema sul quale oggi poi mi concentrerò più che altro concentrerò la vostra attenzione spero è che in realtà noi se facciamo la media fatto 100 l'andamento della produzione nelle costruzioni nel 2021 quindi un anno già molto buono oggi siamo a 37 punti percentuali in più quindi abbiamo raggiunto un livello produttivo estremamente elevato, siamo passati sostanzialmente da un mercato di 130 a un mercato di 200 miliardi certo siamo molto lontani dai numeri della Germania che abbiamo visto prima ma nel nostro paese è un elemento estremamente rilevante e un altro dato positivo è che ciò che vedono le imprese nei prossimi tre mesi, questi sono i due indicatori anticipatori che Istat ci mette a disposizione ogni mese e che riguardano da un lato gli ordini e i piani di costruzione delle imprese e da un altro lato l'elemento dell'occupazione, l'occupazione è una cartina di torasole molto importante in questo settore. Anche qui siamo sopra lo zero, siamo altalenanti ma sostanzialmente in valore positivo e poi c'è un'altra cosa da dire, questo è l'ultimo trimestre il nostro prodotto interno lordo è cresciuto allo 0,2% sul trimestre precedente e gli occupati anche loro sono in crescita. Allora veniamo adesso alle cattive notizie che poi non so se sono effettivamente così cattive. Allora da un lato stiamo tornando, siamo tornati sostanzialmente a quella economia che ho sempre chiamato del prefisso telefonico, cioè noi siamo sempre cresciuti nella nostra storia dello zero e qualcosa. Nei momenti migliori eravamo ai prefissi telefonici del sud 08, 09, in quelli peggiori eravamo al nord, Piemonte, Lombardia. Ecco, il tema qual è? Che al di là di queste dinamiche, queste sono le variazioni trimestrali del PIL, vedete più 0,2, più 0,3, in realtà dobbiamo cominciare a pensare in modo diverso come sarà l'economia post, diciamo, euforia, nel nostro caso non solo a super bonus, ma post, diciamo, effetto pandemia che in questi anni poi ha trainato tutti, soprattutto le costruzioni, ma non solo. Perché se guardiamo, c'è un elemento che io vorrei mettere a fuoco, che è il tema del nostro sentiment, cioè come ci sentiamo, la fiducia che abbiamo. Due anni fa, questo era il quadro che avevamo presentato, questo era quello dell'anno scorso, che era un po' in calo, ma dicevo, ma siamo ancora sopra lo zero, vedrete che il 2024 non andrà male, e in effetti non è andato male, e quest'anno invece abbiamo iniziato a scendere sotto lo zero, non siamo più tanto contenti, e io mi domando perché, perché in realtà se guardiamo i dati, questa è l'Europa delle costruzioni negli ultimi tre anni, sono i dati che potete vedere, anche loro hanno avuto delle crescite, guardate però tutto a destra, la percentuale, i numeri percentuali, 3, 6, 9, 12, con queste dinamiche. Negli ultimi mesi l'Europa ha frenato in questo senso, e diciamo che non è solo l'automotive che frena, in questo caso ha frenato anche gli investimenti in costruzioni, e questa è l'Italia, guardate, 7, 14, 21, 28, 35. Se io metto in confronto le crescite, vedete la differenza e come noi abbiamo avuto un mercato completamente diverso, e come siamo stati, giustamente prima veniva detto, drogati, come ho detto anche nei due anni passati, da questo effetto ovviamente super bonus, che adesso viene ulteriormente, diciamo, trova un elemento di scappatoia nel momento in cui poi dobbiamo spendere tutti i soldi del PNRR. Ma il punto è che siamo, diciamo così, un po' meno fiduciosi, guardiamo sempre le cose da un punto di vista tutto un po' nero, no? Così. Perché? Perché in realtà poi, nel momento in cui andiamo a vedere le previsioni, queste sono le previsioni che erano state fatte per il 2024, dai vari istituti di ricerca, da Ance, Costruzione, da Cresmi, Prometteia, da Scenari Immobiliari, tutti dicevano meno 9, meno 7, no? E al che uno dice aiuto, paura, brivido, raccapriccio. La verità è che noi abbiamo vissuto non solo un'anomalia in questi anni, abbiamo vissuto una grandissima anomalia, sapevamo che era un'anomalia, ma nel momento in cui l'anomalia dura un anno, più o meno ci, diciamo, adattiamo. Ma l'anomalia è durata due, tre, è durata quattro anni e adesso durerà altri due anni per gli effetti del PNRR. Quindi rischiamo di, diciamo, da un lato dire, sì, sì, no, sappiamo che è una cosa temporanea, sapevamo che finiva, insomma, così, no? Però da un altro lato si dice, beh, però finché c'è, usiamola, no? Il problema qual è? È che se noi mettiamo in file i numeri, noi potremmo, e anzi dovremmo, è un po' il succo del discorso di oggi, provare a ragionare, e giustamente veniva detto prima, al netto delle anomalie. Paradossalmente dobbiamo fare così. Allora, mettiamo in file i numeri. Guardate, prodotto interno lordo, investimenti fissi lordi, investimenti costruzioni. Questa è l'Italia delle costruzioni negli ultimi anni. 2021, costruzioni più 28,5, 2022 più 11,8, guardate in rapporto al PIL, già l'anno scorso vi ho fatto vedere questa cosa, sostanzialmente per la prima volta in Italia, è l'unica, diciamo, le costruzioni viaggiavano tre volte la velocità di crescita del prodotto interno lordo, cioè mai avvenuto, ma non c'è. E poi cosa ci ha portato il 2023? E qui vedete due numeri, uno ci ha portato un più 3,1% e sotto vedete un numero che era meno 3,2. Ecco, questa era la previsione fatta sei mesi prima dallo stessa Commissione europea. Ora, il tema qual è? È chiaro che se io in una situazione come la nostra non tengo conto di alcuni elementi, come in questo caso sicuramente la Commissione non aveva tenuto conto, riesco, cioè rischio di sbagliare le previsioni. E il 2024 come si chiuderà? Anche qua, qui non so se vi ricordate, avevo messo un grande punto di domanda, ma riusciamo noi a dire il prossimo anno come sarà? Ovviamente dobbiamo cercare di farlo, no? Però non possiamo farlo se non mettiamo insieme tutta una serie di riflessioni di numeri. E guardando questi numeri, ancora una volta io vedo che sei mesi fa mi dicono meno 2,6, adesso mi dicono già meno 2. A metà novembre uscirà la nuova, diciamo, il nuovo outlook della Commissione europea e vedremo quale numero metterà. Ma certamente questo numero non è ancora veritiero, perché quest'anno non sta andando così male. E il 2025 dunque che cosa ci aspetta? Stando sempre a queste previsioni, in realtà queste previsioni direbbero che il prossimo anno scenderemo dal meno 5,9%. Paura, brivido, raccapriccio. Sapete e mi domando, siamo cresciuti del 28, dell'11, del 3 e mo' anche se caliamo del 5 è un problema? Cioè, la mia crescita dipende se cresce il mercato? Questa è la domanda. Guardate, io vi porto gli ultimi dati, questi sono il primo semestre del 2024, dati Istat questi, eh? I PIL è cresciuto dello 0,7%, gli investimenti fissi lordi del 4, investimenti costruzione più 7,7. Ora, per andare a meno 5,9 vuol dire che negli ultimi sei mesi dovremmo aver fatto un buco del 14%, 13. Io non lo so, siete voi che siete sul mercato, però non mi sembra così veritiero. È molto più semplice, probabilmente pensare che certamente nella prima parte dell'anno c'è stata la fine di questo effetto super bonus, che però ha avuto una coda, ha avuto una coda anche abbastanza lunga. E poi da un altro lato c'è questo aspetto che è arrivato e ne abbiamo parlato tanto perché lo aspettavamo, perché era l'altro pezzettino di droga, no? Cioè abbiamo finito la droga vera e a un certo punto ci danno il metadone. Era, diciamo, l'esempio che avevamo usato ancora l'anno scorso. Ma guardate che il punto nel quale noi siamo arrivati oggi è che in realtà questa cosa l'aspettavamo già due anni fa e già l'anno scorso, ma non era ancora partita, perché noi siamo arrivati ad oggi, scusate, al 26% delle risorse spese. Finora abbiamo fatto grandi progettazioni, abbiamo attivato con procedure molto complicate tutta una serie di cantieri, ma i lavori non sono partiti. Dobbiamo ancora spendere il 74% delle risorse disponibili e di queste risorse disponibili il 53% sono di questi 51 miliardi spese ad oggi sono soldi che sono dati al settore delle costruzioni. Noi fondamentalmente di quei 194 miliardi più di 80 miliardi devono finire al settore delle costruzioni al netto della parte delle progettazioni, perché in realtà diciamo che un terzo, questi sono i dati del MEF, un terzo della spesa del PNRR va al settore delle costruzioni. Guardate che non sono solo strade, le ponti, eccetera. Anzi, sono piccoli investimenti, piccoli per modo di dire, fatti nei comuni. Sono gli asili, le scuole, i centri sanitari, tutte cose che sono sul territorio. Tra l'altro c'è un sito molto bello, si chiama openpnrr.it, dove trovate tutti i dati, tutti i cantieri, tutte le spese, tutte le cose attivate a livello di ogni singolo comune. La stessa ANCE, proprio qualche giorno fa, ha messo a confronto i dati per una volta, diciamo senza remore, perché poi ANCE alla fine fa il suo mestiere, ancora adesso dice che quest'anno il mercato calerà del 7%, ma è chiaro perché sappiamo che bisogna andare un po' a batter cassa al governo e quindi un po' piangere, nel momento in cui c'è un meno davanti, si va col cappello in mano e dice aiuto, paura, brivido, raccapriccio. Ecco, guardate, questi sono i dati, negli ultimi sei mesi, cioè il primo semestre 2024, investimenti in costruzioni, produzione nelle costruzioni, ore lavorate, ore lavorate, quindi non sono previsioni, proiezioni, sono effettivamente i dati delle cassa edili e i lavoratori iscritti. Cioè, allora, possiamo pensare che quest'anno sia quel patatrack che si era prospettato o possiamo pensare che probabilmente siamo in una situazione diversa? E qui, allora, il tema è il 2025 che ci aspetta. Allora, il mio amico Cattivic direbbe, paura, brivido, raccapriccio, mica tanto. In realtà siamo nella condizione di una crescita per il nostro paese in linea con quella che è stata quest'anno, forse con qualche punto decimale, percentuale in più, forse cresceremo dello 0,9, forse dell'1,1, ma sicuramente l'economia non è infrenata. Non è nella grande crescita che ci si può aspettare, ma la nostra è un'economia vecchia, non è un'economia capace di innovare in modo consistente come altre economie nel mondo. E purtroppo soffriamo di una serie di meccanismi di ritardo nell'innovazione, in particolar modo sull'innovazione digitale, che frena un po' lo slancio del nostro settore e delle nostre imprese e delle nostre economie in generale, ma soprattutto poi del settore delle costruzioni. E rispetto a queste previsioni, quali sono i dati che potremmo vedere? E io ancora una volta dico, a cosa possiamo aspettarci? Ecco, in realtà prima di dire o di vedere quale potrebbe essere l'andamento, vi porto a fare un ragionamento, perché questi ragionamenti li potete fare voi stessi in azienda ogni mese andando a vedere i dati Istat. Poi se li leggete sulle nostre articoli di Utrade, noi siamo molto più contenti ed è anche un po' il servizio e il lavoro che facciamo col centro studio di Utrade. Guardate, i permessi di costruire. L'anno scorso, vedete, c'era stato un calo, quest'anno c'è stata una ripresa del 2,9%, nel 2024, questa è una proiezione ovviamente, ma che cosa significa? Che tutto ciò che viene autorizzato come permesso di costruire non è mercato attuale, è il mercato del prossimo anno, è mercato fra due anni, perché mi dà il permesso, però non è che inizio a costruire oggi. Questo riguarda il non residenziale, più 3,3%, e guardate la riga che più o meno traguarda le dinamiche degli anni precedenti. Ora guardate invece le compravendite. Le compravendite sono un dato importante, perché nella compravendita poi c'è anche l'effetto ristrutturazioni. Ora, i primi due quadrimestri di quest'anno, e sono i dati reali, hanno fatto quasi il valore delle compravendite del 2013-2014. Solo i primi sei mesi. E guardate la media complessiva degli ultimi tre anni, come si staglia in modo molto più alto rispetto alle medie degli anni precedenti. Allora, e questo vale anche nel non residenziale. Qui vedete complessivamente, rispetto ai dati dell'agenzia delle entrate, quindi sono proprio gli scambi, le compravendite certificate, guardate anche in questo caso i primi due quadrimestri di quest'anno a che livello sono rispetto agli anni precedenti. Allora, il punto è, cosa abbiamo di fronte a noi? Certamente abbiamo un livello produttivo della nuova costruzione che si dimostra più elevato di quello del recente passato, con una propensione, peraltro, alla spesa nelle ristrutturazioni, che anche venendo a mancare il super bonus, come una recente ricerca di Nomisma ha verificato, in realtà si abbasserà ma non si abbesserà in modo drastico. Non è che finisce, non è che le famiglie non spendono più. In realtà le famiglie, ovviamente in presenza di un po' di bonus, sono disposte a ristrutturare, riqualificare energeticamente, eccetera, eccetera. Quanto questo bonus? 100? Certo, 110 non c'erà mai più. 50? Il 50? È tanta roba il 50, ma anche il 36 è comunque tantissima roba. Certamente il 50 è meglio e probabilmente, adesso dobbiamo vedere a fine anno con la legge di bilancio cosa succederà, ma sostanzialmente verrà confermato, certamente per le prime case, non più per le seconde case, ma insomma diciamo che cominciamo a parlare del mercato vero e del fatto che poi dovremo muoverci verso un mercato di riqualificazione che non sarà più quello del passato, perché si porterà avanti una conoscenza più diffusa di quelli che sono gli effetti veri poi delle riqualificazioni energetiche, perché la signora Maria che avrà parlato con la sua amica che ha fatto la ristrutturazione e la sua amica le dirà che in effetti la bolletta energetica è scesa a casa sua e si vive meglio in una casa ristrutturata e quella casa ristrutturata tra l'altro vale anche di più. In più sono in crescita gli investimenti infrastrutturali nel PNRR, quindi per i prossimi due anni in realtà noi possiamo considerare che avremo certamente un effetto di atterraggio morbido e sicuramente una fase di, chiamiamolo galleggiamento, anche se questa parola magari può non piacere perché galleggiare non è bello, però in realtà se uno sa nuotare galleggiare non è difficile, bisogna saper nuotare. Ecco, le previsioni. Allora in questo senso noi siamo sempre in contatto da molti anni con il centro studio di Unicmi, con Carmine Garzia che lo gestisce, perché noi ci ritroviamo dentro questi valori, questi dati e ci ritroviamo soprattutto dal punto di vista delle indicazioni alle imprese dicendo attenzione non solo il 2024 non sarà l'anno così negativo come si pensava o ci era stato prospettato, in realtà noi non avevamo detto questo però. Ma soprattutto il 2025 sarà un anno, qua vabbè, diciamo, prefisso telefonico, atterraggio morbido, galleggiamento, prendete la parola che vi piace di più, il significato che vi piace più, ma fondamentalmente non sarà un ritorno al 2016, ok? Anzi. Allora, se mettiamo a confronto la crescita nominale con la crescita reale, cioè la crescita diciamo reale, quella al netto dell'inflazione, noi in realtà siamo già in fase di galleggiamento e di, diciamo, chiamiamolo, di mercato piatto da questo punto di vista nell'arco dei recenti due anni, perché la grande crescita che abbiamo avuto poi è stata inficciata moltissimo dall'inflazione, ma noi quando facciamo le analisi di bilancio e valutiamo quanto siamo cresciuti in fatturato, abbiamo sentito i dati prima, quello è un valore all'ordo dell'inflazione, cioè non ci mettiamo dentro, non è un valore al netto dell'inflazione e quindi è un valore che, certo, ci dice, sono cresciuto del 20%, ma se c'è l'inflazione al 10% è cresciuto realmente meno. Allora, le previsioni per il mercato dal punto di vista residenziale e non residenziale vedono chiaramente una riduzione sul mercato residenziale, ma un incremento, ad esempio, sul mercato non residenziale, che è una novità, tra l'altro, da un po' di anni, in questi anni. Ed è una novità interessante perché è un mercato che sta riprendendo e significa che è un mercato che, essendo molto più legato all'andamento dell'economia, è un mercato che nel momento in cui l'economia ha dei trend, delle modalità di sviluppo, soprattutto in alcuni settori, certamente è un mercato molto interessante. Faccio una brevissima parentesi. Abbiamo sentito parlare di logistica. La logistica oggi è uno dei mercati più dinamici nel nostro paese e, in questo senso, abbiamo anche delle norme che permettono in modo molto semplice di modificare, di intervenire nel territorio e di aprire centri logistici, eccetera. Perché poi la logistica oggi è uno dei fattori, ma l'abbiamo sentito. Quando avevamo raccontato la storia di Agebau un bel po' di anni fa sulle pagine di Utrade, abbiamo messo al centro proprio il tema della logistica. Il cuore, secondo me, proprio al di là di tutte le altre cose che ci hanno raccontato, molto positive, il cuore proprio del loro meccanismo poi di successo anche dal punto di vista di mercato. E il dato che potete vedere qua potrebbe essere più negativo, però in realtà in alcuni mercati forse sarà addirittura in positivo. Parlo ovviamente per quanto riguarda il residenziale. Sulla parte delle ristrutturazioni, perché ricordiamoci che prima si è parlato molto, per esempio, di Roma. Stiamo arrivando a Roma, eccetera, eccetera. Roma è il prossimo anno del Giubileo. Il Giubileo porta non solo lavori, diciamo, infrastrutturali, ma anche molti lavori di ristrutturazione, di rifacimento, di alloggi e quant'altro. Perché? Perché in realtà si sta esplodendo il mercato, ovviamente, degli affitti brevi. E questo è un mercato che sta esplodendo a Roma, ma non solo a Roma, ma in tanti altri posti. Allora, al netto della considerazione che potremmo fare su se è giusto o sbagliato gli affitti brevi, eccetera, eccetera, è un trend e anche quello è un dato sul quale noi possiamo contare che in alcune aree del Paese, probabilmente, dovremmo rivedere alcuni valori. Comunque, il mercato che cambia, e anche prima si è detto che il mercato sta cambiando, ma mantiene la sua consistenza, cala un po' sul residenziale, cresce il non residenziale, questi sono i valori al netto degli investimenti infrastrutturali. Allora, a questo punto, io dico una cosa, è brutto da dire, perché in realtà uno dovrebbe vedere sempre, no, devi dirmi più, più. A noi piace tanto il più, no? Però mettiamo, facciamo l'esercizio che noi cresciamo zero. Facciamo l'esercizio che il mercato cresca zero. Ma in un mercato che non cresce, come faccio io a consolidare i miei valori e come faccio io eventualmente a crescere? Perché questa è la domanda che dobbiamo farci. Perché, no, lo dico dopo, in tutto questo, in questa dinamica, la distribuzione dei materiali edili come è andata? Non male, assolutamente. Noi abbiamo analizzato ad oggi, stiamo avviando tutta la parte di analisi dei bilanci, più di 3.000 l'anno scorso, e del settore della distribuzione dei materiali edili. Ad oggi abbiamo, diciamo, stiamo monitorando 777 aziende, di queste 672 hanno già i bilanci disponibili nel portale dei registri camerali. Il fatturato complessivo che abbiamo analizzato di questi 672 bilanci sono 5,6 miliardi, dei quali la top 100 rappresenta 3,4 miliardi di fatturato. E questo, secondo me, è un segnale molto interessante e molto positivo perché finalmente si vede un elemento di concentrazione, un elemento di rafforzamento del sistema. Prima abbiamo avuto qui seduti dei campioni, no? Di questo mondo. Ma in realtà ce ne sono tanti distribuiti sul territorio. Ecco, come è andata nella top 100? Beh, benino direi, dai. Se vi lamentate, io vado via. Cioè, guardate, ultimo anno il campione totale è cresciuto dello 0,4%, quindi la nostra previsione dell'anno scorso non era tanto sbagliata. E voi quanto siete cresciuti? Dico voi top 100, del 2,7%. Guardate gli indicatori messi in fila negli ultimi anni di quelli che sono alcuni indicatori poi di competitività delle imprese e di capacità anche di generare redditività. Allora, a parte che la top 100 fa sempre meglio, ma c'è un elemento comunque di miglioramento anno per anno anche degli altri. Quindi questo è un elemento positivo che si vede nel mercato. Questo certamente è dato dalle condizioni però di mercato. Non dobbiamo dimenticarci che questi sono valori che sono figli anche di quella crescita del mercato, che era una crescita non del mercato. Era una crescita esterna al mercato. Era una crescita indotta da un fenomeno straordinario che è stato quello del super bonus. E allora io mi domando se il 2023 non è stato per la prima volta, lo dico tra parentesi sottovoce per fortuna, l'anno della selezione. Perché ovviamente noi veniamo da anni nei quali questo settore era estremamente polverizzato in una miriade di piccoli rivenditori, eccetera, eccetera, che ovviamente non garantiscono poi oggi di fare quel sistema strutturale di qualità che veniva anche espresso prima, che serve alla filiera intera delle costruzioni per essere una filiera di qualità competitiva per il futuro. Per le sfide che abbiamo di fronte che sono sfide importanti, una per tutte è quella delle case green. Ecco, qui guardate i dati l'anno scorso, l'anno scorso era tutto 100, 100% di aumento, 100% di utile, eccetera. Quest'anno le percentuali si sono un po' abbassate, come era nelle attese, nelle aspettative, ma ci sono alcuni di questi valori che secondo me sono molto interessanti perché gli indici complessivi sono migliorati e sono aumentati. Ma perché dico che sei iniziata, mi domando se è iniziata la selezione? Io non lo so, lo dovremo monitorare, lo vedremo con l'analisi complessiva dei bilanci, ma soprattutto lo vedremo nel monitoraggio poi anche il prossimo anno, eccetera. Perché in realtà chi è cresciuto, chi è cresciuto, sono soprattutto quelli di grande dimensione, sono cresciuti molto. Quelli di piccola dimensione hanno, diciamo, più galleggiato. E soprattutto c'è un altro dato, che i più grandi sono comunque più performanti. E peraltro, se io fossi la grande distribuzione organizzata, mi domanderei, ma io come posso arrivare a fare gli utili che fanno questi qua, che io ne faccio molti meno? I grandi sono in crescita nel medio periodo. Guardate, 2021-2023, qui vedete le variazioni percentuale, le aziende con più di 100 milioni di euro fatturato sono cresciute del 38,8% nel bienio, quelle da 50 a 100 milioni sono cresciute del 49,5%. Ecco, vedete che essere grandi aiuta in questo senso, cioè il motore più grosso spinge di più. Ma soprattutto la dimensione garantisce competitività e reddittività. E qui vi porto un dato, che è un dato secondo me molto importante, che è quello poi della percentuale di cash flow sul fatturato. Che vedete come varia, perché due, tre punti percentuali varia tantissimo dal punto di vista della disponibilità se io fatturo 100 milioni o se fatturo un milione. Ora, tutto sommato continuate a fare da banca ai vostri clienti. Questa è la differenza tra i pagamenti dei vostri fornitori e i pagamenti da parte dei vostri clienti. Siete passati da 109 giorni a 90 giorni. Oddio, 86 era meglio. Quattro giorni uno dice ma più o meno sono in linea. Però guardate che ci sono, se andate poi dentro e andrete nella nostra pubblicazione di fine anno dei bilanci, troverete anche i dati di ogni singola azienda. Ci sono aziende che hanno il meno davanti, meno 5. Cioè loro hanno un delta positivo tra pagamento del cliente e pagamento del fornitore. Quindi vuol dire che si può migliorare. Però c'è un altro dato che a me è venuto fuori, ha balzato gli occhi l'altro giorno quando analizzavo i dati. Perché nell'ultimo anno è peggiorato il dato, il rapporto tra cash flow e i vostri oneri finanziari. Questo è il totale della top 100. Quindi non c'è proprio il totale, come se la top 100 fosse un'azienda unica. Siete passati dal 6,6% al 3,5%. Oddio. Vuol dire che fino all'anno scorso anche il mercato mi ha aiutato a avere questo indicatore alto. Ma adesso se il mercato non mi aiuta più in quel modo, io torno ai valori prima del 2020. Insomma. Allora la domanda è, ma in questi anni abbiamo messo più su pancia oppure abbiamo messo su muscoli? Perché la sfida è quella. Quindi, cosa aspettarci per il futuro? Certamente le notizie non sono cattive. Anzi, guardate. Ad agosto abbiamo avuto un inizio di rallentamento della produzione, ma in agosto ovviamente poi quest'anno era caldissimo. Su base mensile l'attività edilizia è diminuita dell'1,8% rispetto al periodo precedente, che era il mese di luglio. Quindi c'è un rallentamento. Ma questo rallentamento non è, diciamo, così preoccupante come ci veniva prospettato. E sostanzialmente nel periodo gennaio-agosto la produzione è cresciuta dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Siamo in questa fase. Mercato zero. Il quadro del PNRR è questo. Abbiamo 26% di spesa effettiva ad oggi. E abbiamo questo grande, diciamo, lancio di onda che prosegue e continua, dove noi, di fronte a noi, abbiamo un mercato dove 7 abitazioni su 10 hanno più di 40 anni d'età. E in più abbiamo la novità di questa cosa qua, che negli ultimi 20 anni è cresciuta moltissimo. 20 anni fa un cantiere su 100 in Italia rispetto alla nuova costruzione era demolizione e ricostruzione e oggi è uno ogni tre. Uno ogni tre. È un mercato nuovo perché? Perché alla fine, nel mese di settembre, è stato questo nuovo regolamento dell'end waste, che è composto da questi articoli, eccetera, che ha abrogato un vecchio decreto e che sostanzialmente rivede il modo di pensare ai rifiuti da demolizione e costruzione in Italia. Io mi domando, può essere una nuova opportunità per i distributori edili? Perché in Francia lo è. Questo è il punto vendita di un non-materiaux a NIM e potete vedere che in quell'area è l'area dove loro gestiscono la parte di recupero e riutilizzazione dei materiali da demolizione. Quindi non più materiali in cava, ma materiali che vengono riutilizzati. Un nuovo business, bisogna pensarci, non lo so. Le prospettive sono queste che poi abbiamo di fronte a noi e che dobbiamo anche capire quali sono le potenzialità di questo mercato, che è un mercato in realtà estremamente potenziale. Abbiamo solo 5 milioni di abitazioni in Italia che hanno l'attestazione di prestazione energetica e soprattutto abbiamo un mercato di fronte a noi che nel momento in cui, a noi non piace la parola zero, però in realtà è un mercato che conferma quello che c'era l'anno precedente. E quindi è un mercato forte, è un mercato che è passato da 130 a 200 miliardi complessivamente di investimenti. Potrà anche scendere un po', ma siamo sempre l'intorno. E allora un mercato forte, secondo me, bisogna lavorare sui punti deboli. Il punto debole, debolissimo del nostro mercato è che noi siamo sempre ad aspettare dall'esterno qualcuno che ci dia qualcosa. Cioè noi diciamo al mercato crescerà del 20% bene, ma siamo noi che cresciamo o è il mercato che ci fa crescere? Perché noi dobbiamo trovare dentro le ragioni dell'impresa la capacità di crescere anche in un mercato che non cresce. E come si può fare questa cosa? Ovviamente bisogna avere una strategia. Veniva detto prima anche dal nostro amico di Agebau, no? A questo punto domande ce ne sarebbero tante, ma soprattutto uno, conoscete il mercato? Conoscete voi stessi? Soprattutto conoscete i vostri competitor e come affrontate il mercato. Perché il tema è che gli altri se ne stanno accorgendo. Se Leroy Merlin, che non è, cioè è della stessa famiglia, sono fratelli e sorella, Brickman e Leroy Merlin, ma se Leroy Merlin apre a Marghera il secondo, il secondo punto vendita centro edile, dopo quello di Corsico, dedicato praticamente esclusivamente, perché loro dicono per privati, ma in realtà è per i professionisti, una domanda ci sarà. E la domanda è questa, cioè è la risposta se volete è questa. Guardate cosa fa Leroy Merlin, un miliardo, quasi un miliardo e otto di fatturato nel 2023, cresce dal 2,5% e lì vedete anche gli utili che hanno fatto sia Leroy Merlin che Brickman. Solo di utili hanno fatto nel 2023 113 milioni di euro, che potrebbe essere fatturato di una top 100. Solo di utili. È chiaro che questo segnale è un segnale dove forse la competizione si allarga, si espande, ma a questo punto forse voi con la vostra dimensione, con la dimensione crescente, con l'organizzazione, eccetera, potete essere più combattivi. Allora chiudo su questa cosa. Il tema è che la riduzione fisiologica della crescita del mercato è evidente, ma da questo punto di vista noi dobbiamo capire come agire in questo mercato e soprattutto dobbiamo capire che da soli non si va da nessuna parte. Dobbiamo essere capaci o di metterci assieme o di mettere assieme, perché si può andare in giro anche da soli ovviamente, però bisogna avere spalle grosse. Ce l'hanno raccontato i casi che abbiamo visto prima, che stanno dentro la Top 100, Terno, Zanutta, ma soprattutto dobbiamo anche pensare se noi possiamo trovare dei nuovi spazi, dei nuovi ambiti operativi di lavoro nel nostro mercato, puntando soprattutto a quelli che possono essere dei fattori innovativi. ne cito uno per tutti, il noleggio. Tanto per dirvi che le dinamiche vostre di mercato, dove stiamo ragionando su crescerò dello 0,5 eccetera, il noleggio l'anno scorso è cresciuto del 15%, quest'anno crescerà, mal che vada, del 9%, il prossimo anno mal che vada cresce del 7%, proprio mal che vada. Allora, è evidente che noi abbiamo degli ambiti sui quali noi, con le nostre strutture, possiamo essere posizionati sul territorio, ma attenzione, queste cose non si fanno se non siamo efficienti dal punto di vista operativo. E il tema che è stato poi portato dal nostro amico che è cresciuto in tre anni in quella dimensione, 9, 27, 63, no? Cioè verso l'infinito e oltre di fatturato, o 67. Però in realtà, cosa ha detto? Eh però adesso dobbiamo organizzarci. Eh sì, bisogna organizzarsi, lavorare sull'efficienta operativa e poi ovviamente sull'altro tema, ma è il vostro mestiere, sull'efficacia commerciale. Allora chiudo dicendo, vi cito questa frase di questo, ovviamente, genialissimo inventore della temperatura assoluta, dello zero assoluto, che è Kelvin, che abbiamo studiato sui banchi di scuola, che diceva che questa frase è secondo me lampante però per questo mercato oggi. Se non puoi misurare, non puoi migliorare. Cerchiamo di evitare di fare queste figure qui e di continuare a chiedere al governo degli incentivi, perché non siamo capaci di fare il nostro mestiere, perché noi, il nostro mestiere, lo sappiamo fare, che ci siano gli incentivi o non ci siano gli incentivi. È questa la consapevolezza che dobbiamo avere. E soprattutto dobbiamo sapere che dobbiamo partire da noi stessi, misurarci per costruire veramente le nostre nuove opportunità di mercato. Grazie d'attenzione. Grazie, grazie.